fai un lento lungo profondo respiro consapevole un respiro che è come un'onda e porta con sé la purificazione dell'acqua cristallina così questo respiro che continua morbidamente a riempire il tuo corpo di quest'acqua cristallina purificata e questa onda fa muovere la tua pancia quando inspiri la tua pancia si gonfia un po' quando esperi si rilassa si rilascia si ritrae e così in questo movimento morbido senti la tenerezza di un'acqua che benedice purifica e allenta ogni singola tensione riportandola a serie assorbendola e purificandola è un'acqua benedetta piena di particelle luminose e al centro queste particelle sono vuote il vuoto si muove in luce e acqua in te tanto che il corpo stesso svanisce a se stesso perché quella forma quel corpo è pura apparizione è solo il sogno dell'apparizione ma ciò che è in profondità è vuoto luce energia in questa percezione sento uno stato di libertà ma allo stesso tempo di stabilità di pace e mi rendo completamente vuota e libera e sento che ogni particella di vuoto in me è luce e la potenza della luce si irradia in tutto il mio essere e questa resa a lasciarmi accadere nella luce e nella vacuità permette un incontro un incontro d'amore con il mio sposo mistico il divino mi sento un'energia potentissima che dall'alto discende verso me e io mi permetto di accoglierla di lasciare che possa entrare in questo spazio di infinita accoglienza e sento la potenza di questa forza pura energia è un'energia che è come una spada luminosa una spada che offre la propria stabilità, protezione, rassicurazione, riconoscimento e sento la forza dell'integrità in questo matrimonio mistico in questo sposalizio d'amore e in questa fusione tra un'energia che accoglie e un'energia che unifica alla potenza della coscienza respiro e sento la forza dell'integrità e la potenza che ne deriva e ciò permette che io mi possa affidare completamente alla potenza di questa sacra universale energia di uno sposo mistico che vive in me e in questa integrità, in questo affidarmi alla potenza, sento la bellezza estatica di questo incontro che è forza che è unificazione è un senso di appartenenza a ogni cosa è un'unione che tutto può e tutto crea ed è da questo spazio di profonda alleanza che puoi creare senti la forza dell'alleanza e la potenza dell'unificazione una grande protezione unificazione e solidità immutabile questa unione mistica è immutabile è stabilità mentre fuori tutto si muove qui qui in questo centro di potere tutto è e sento l'universo in me e io nell'universo una cosa sola e in questo silenzio immanente vi è molta pace e un grande senso di immortalità potenza libertà totalità vita il divino in me io nel divino così è siamo amore sono amore che riverbero nella potenza dell'unificazione